musica 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 qua su mario sport mix ovviamente in compagnia di mio padre ciao ovviamente se vi ricordiamo un attimo cosa è successo negli scorsi episodi ossia negli scorsi tre episodi abbiamo fatto appunto questo torneo di mario sport mix dove appunto ci sono tutti gli sport fortunatamente ci è uscito come prima sfida palla a volo che non è stata per niente una passeggiata nel senso ovviamente vi lascio sotto in descrizione i tre episodi di palla a volo il fatto che mi preoccupa che comunque papà non ha fatto questi altri tre insomma magari ci abbiamo giocato insieme ma niente di particolare quindi ho un po paura di cosa potrebbe succedere magari dovremmo ripeterlo un po di volte comunque direi di continuare si proseguiamo assolutamente intanto vai ah si è spento si è spento ok continuiamo quindi per la seconda sfida ho paura di vedere ragazzi perché vedremo anche appunto chi è il cattivo della questione potrebbe essere moguri oppure baby browser baby browser si ok no non ci ho mai giocato ecco pure il flipper di waluigi stiamo freschi ragazzi allora intanto io andiamo a vedere un attimino come si gioca allora poi tu clicca subito wow no cazzo mi ha ucciso però ok vai andiamo a vedere e ci rivediamo quando ho capito tutto ok ragazzi abbiamo capito e già sono stata eccola qua mi serve aiuto ucciso perché ho tirato eccomi eccomi aspetta perché c'è ok io posso di qua vai io mi allargo prendila però vai passa e l'ho passata no non ci ho mai fatto però è carino mi piace eh mi piace mi piace mi piace vai vai ma se ci sono davanti loro non posso mannaggia me l'hai rubata ogni roba l'ho rubata io però oddio sei esploso insieme a luigi perché non lo so oddio grazie al cielo ok ci voglio diventare piccolo lui cosa tira un missile bravo eccolo eccolo ci abbiamo fatto anche con qualche moneta un po' difficile infatti sto veramente ci dando comunque siamo scusa prende la palla io ho prodotto pure a caricare io copro vado a coprire non lo devi passare potrebbe passare eccomi vai eccomi ma non riesco mi coprono troppo ho cliccato ma non sono riuscita a passare cavolo fregate caspita ho tirato una burra 4 a 3 ragazzi vedo che questo è troppo difficile ma come la vedo dura oh che cosa fa ha avuto gol cosa hai fatto avuto gol ma non è vero io non ho cliccato niente ma dai io non ho cliccato niente tu non è giusto attenzione aiutami contro due perciole non posso vai sto a premere si è un ucciso ok passa passa tiè non so come è fatto ma quel portiere si sarà spostato non so come è troppo difficile è troppo difficile ho paura che non possiamo farcela ce la faremo ce la faremo passa 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 tu al like il gioco brava vai al like di tu vai vedi no fuori oh sta caricato ma dai io cliccato anche zita ma non so di preciso come lo farlo come fa a fare un gol del genere dai non lo so è carica diciamo ok basta nooo e la sto a passa oh si tira la ma dai è difficile non so se ce la faremo veramente dobbiamo provare oh vai no ah di lato che piccolo è molto lento che cavolo oh mi struzzo eccomi chi è nooo metti di davanti come lo fa la persona ma dai ha fatto quattro rimbalzi impossibile è fisicamente impossibile clicca un e due appena prendiamo la palla clicca un e due no no che la presa oh ma io tutto sto se non è andato vai ok io ti ritorno ma ti guarda ma muori è esploso però va bene su dai 8 a 10 fregati la palla ruba 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 perfetto vai io mi allargo qua ok muovi passa e ma sta lontano quello occhio mi allargo caspita no io non ti la faccio perché in due contro uno è difficile capito io mi allargo apposta tu me la ti è passata hai visto che ho fatto tipo una cosa così eh tu me la passa io facevo il tiro a giro vai vai capito quanti set sono due parca miseria stiamo perdendo c'è un più tipo a calcio proprio se quello fa mannaggia questo prende la palla tutto spiato guarda mi allargo eh guarda tu sto allargati tu vai vai ma già vai eh vai ho tirato 3000 volte ho premuto vai 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 no ma tu guarda guarda dove sono dai io ero morta vai guarda oh oddio che forte sotto le gambe hai tirato 10 a 10 oddio non fa sta palla che dobbiamo andare in bandaggio ecco vai vai allargo passa oh ha tirato 2000 volte ho detto passa dai però non è possibile sì ok anche solo se non mi facciamo prendere la palla anche solo se non riesce oddio mannaggia occhio questo non mi dica mi metto davanti no vai eccolo ok basta giochiamo ok basta giochiamo di passaggio ok dobbiamo rimanere così eccolo sto qua ok in due minuti non ce la faremo vai mannaggia no ero morta perché sei morta per romper la palla non ero mao perché sei morta tira la palla ok tira un missile no tira però ti devi tirare prima no io non ho tirato stavi tu no stai di appiccio dai che sei sbagliato vai io ci sto e faccia no quello sa cascata tira un missile terraria eccolo qua l'angolino basso ok quanto stiamo aspetta 12 o 13 12 13 14 a 10 ok fai 1 e 2 1 e 2 vado eh non so come ha fatto ma un sedere potente ma sto sempre per terra io non mi scelgo sulle quali fai 1 e 2 1 e 2 ok mi scelgo mi scelgo aria morte male oh muo esplode eh vai vai muo esplode eh vai ok sto studendo cattiveria ragazzi mi devo scamicare mi dico 10 ce l'ho di fare cioè hanno 6 monete se prendono quella palla e tirano ci sto eh ok vai eccomi è no la palla guarda una palla gigante non ci voglio credere cioè se lo fanno adesso mi incavo da morire ok c'è no 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 ma vai ma vai ma vai ma vai ma vai ma vai 18 c'è un avanti non è giusto eccomi non ce l'ho apri e vai sbagliato no aspetta la storia dai io ti da fare oh mamma mia impossibile per un momento ce l'avevamo fatta impossibile no ci fanno pure l'altro no sono troppo veloci nel senso comunque non siamo impossibile cavolo ma dai vai avanti passa ma ma vai mi sono appena rialzata e ho preso la palla ma non ti manca mi sto cercando di evitare la palla e mi arriva in faccia vai tira la missile dall'aria e vaffagina e non ci manca quando ci manca ci mancano tre punti ma con mezzo minuto non è possibile vai con 15 secondi neanche mezzo ma non ho il tempo ma oh ma è possibile tirare eppure io mi prendo luigi voglio desidera così e non puoi ah non puoi no dopo e non puoi comunque ah ok io sto qua in mezzo alla mischia ok ah muori vai vai oh eh ma tanto pure se fosse ma muori ok ragazzi io ci voglio riprovare ci voglio riprovare ma non è giusto dai su non è giusto dobbiamo comunque trovare delle strategie questo è ovvio però è veramente troppo difficile ti ricordi a fare lavoro come facciamo io faccio un muro tu è è la stessa cosa dobbiamo fare qua dobbiamo fare cioè quando noi prendiamo una palla perché tu la devi prendere il momento giusto capito non devi fare sempre così ok no no quando rubo la palla rubo la palma no nel senso proprio qua all'inizio no no devi farla al momento giusto io sto qua dietro vai e se mi fa passare poi lui arca miseria la presa che cavolo cioè ti riprovo ok tu ti devi mettere davanti a lui di guardo ma immagino ma perché ma loro la prendono subito la palla e noi non possiamo noi ci uccidiamo e muori hai presa io sto largo vai eh eccomi posizionati vai no e ma tu vai vai è bello ovviamente non mi tope ecco perché non voleva passare ma dai pallonetto con la bomba ma non l'ha segnato però no dai ma infatti ho clicca tua ma non me l'ha fatto ma non la passi papà eh ma io clicco ah non me lo fa qua ma tu la curano mi fai cavolare ecco il dischetto vai vai tira un missile terraria ma che significa tira un missile terraria di cos'è vai davanti a luigi che sta succedendo dove ma ci stanno troppe bocce mezzo a fare troppe palle che palle ma non è giusto dove sto picco guarda sta sempre a te il frutto non riesca la segnale nemmeno vai vai a ingrociare il secondo palo cioè ma c'è dopo un pochino un sacco di robe tutti addosso a noi cioè pure a loro beh però porca miseria eccomi eccomi porca miseria ho tirato vai vai non ti danno il tempo capito purtroppo non ti danno il tempo chi è ah no ma si vai l'avevo preso per ti dirò avanti agli osci posso davanti aiuto eccomi contro due persone non ce la faccio no annaggia ho tirato ho sbagliato vai che sei sbagliato ah eccolo ho avuto niente ma non si butta io gli dico di buttarsi e non si butta e te fi a un certo livello vai eh passala subito però passala subito se no la perdi passala subito oh ok che è successo che è successo voglio vedere come si perché io potevo cioè poteva far buttare z potenzia colpisci passaggio appunto e questo lo posso fare e ok però tu non lo puoi fare cioè vai va e e buttati tizio questo ti aspira rimani qui ok vai che hai fatto c'è un capo a nulla un capo a nulla chi è vai ecco ci sto a tutta eccomi al lato o tiri o tiri o tiri o tiri vai che sta per terra quello che mi c'è oh palla già oh poi ci arriva la palla guarda io lo sapevo eh lo stai osce lato 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 bello così crocia è veramente difficile una maniera che non potete capire ok 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 passa no ce l'hai davanti attenzione dovete dirà se tiri al foro oh vai vai oh l'hai spiazzata visto si stava buttati lato no anche perché mi hai detto la palla addosso al portiere che l'ha prodotto eccomi e andiamo ah mi fa male il braccio eh lo so mi fa male il braccio attenzione ha finito allora il primo tempo l'abbiamo vinto ragazzi ma dopo la prima sconfitta e questo direi di prenderci una pausa e fermarci per un episodio anche perché tre punti due monete e ci recuperano sì quindi io direi che visto che comunque arrivate ai 25 mi piace molto velocemente queste cose sono molto felice anche perché arrivate addirittura magari a 40 a 40 mi piace quindi sono molto felice però vi chiedo a 30 mi piace a 30 30 a 30 mi piace facciamo il seguito e speriamo che comunque vada meglio se no vediamo di tagliare qualche pezzo quando se dovremmo rifarlo una terza volta comunque io direi che possiamo fermarci con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti e iscrivetevi al canale